Mi hanno chiesto di registrare un brevissimo filmato per spiegare la nostra idea di archeologia pubblica e partecipata sullo scavo nel progetto di Uomini e Cose a Vignale che io ho la fortuna di dirigere da ormai 12 anni. Ci abbiamo pensato su un po' e probabilmente noi non abbiamo una idea teorica compiuta di archeologia pubblica e partecipata. Quello che possiamo raccontare è un principio fondamentale a cui noi ci atteniamo e la sua evoluzione nel tempo. Il principio fondamentale lo abbiamo spesso ripetuto in uno slogan, l'archeologia o è pubblica o non è. Pubblica perché noi lavoriamo su un bene pubblico che è il patrimonio culturale del nostro paese, lavoriamo per lo più con soldi a vario titolo pubblici e lavoriamo per conto di una comunità che è la comunità che ci sta intorno, che per molti versi ci sostiene e che è il principale portatore di interesse verso il nostro lavoro. Abbiamo un'idea di fondo ma non abbiamo un sistema teoretico preciso. Possiamo però raccontarvi come questo nostro modo di fare archeologia a Vignale è cambiato nel corso del tempo e proveremo a raccontarlo con un espediente narrativo perché noi abbiamo dovuto cambiare pelle più volte nel corso dei 12 anni di questa esperienza. La prima pelle, la vedete sulla maglietta che indosso, è l'origine del nostro scavo a Vignale. Noi nasciamo come una costola di un grande progetto di ricerca a Populonia. La maglietta che indosso è la maglietta dell'ultimo anno in cui ho diretto lo scavo di Populonia insieme ad altri colleghi dell'Università di Siena e il progetto era un progetto di conoscenza archeologica e il progetto di Vignale rientrava in qualche maniera in quel grande sistema di conoscenza di Populonia e Vignale doveva rappresentare un po' il coronamento di quelle ricerche sul fronte dell'archeologia romana che a Populonia è debolmente rappresentata e soprattutto dell'archeologia tardo-antica. Il progetto però è cambiato progressivamente nel corso del tempo, abbiamo scelto questo espediente narrativo e sono cambiate le nostre magliette. Questa è una maglietta, se non ricordo male, del 2007. Il progetto nel frattempo era cresciuto ed è un progetto che si era articolato. Intanto avevamo focalizzato un punto di conoscenza, era questa stazione di sosta di epoca imperiale romana in cui lavorava questo signore che si chiamava Antioco e avevamo introdotto questi due nuovi elementi, il concetto che ci interessavano complessivamente gli uomini e le cose e l'idea che queste cose ci interessavano nel contesto di un territorio. In questa maglietta c'è scritto il titolo del progetto, c'è scritto la parola chiave, archeologia globale di un territorio e ci sono dei nuovi soggetti, c'è il Ministero dei Beni Culturali, c'è l'Università di Siena, c'è il quartiere di Riotorto, cioè la comunità di questo territorio. Passano gli anni e arriviamo al 2011 direi, questa è la maglietta di Rai 2011 ed è una maglietta diversa perché è una maglietta intanto molto più elegante delle precedenti e poi è una maglietta identitaria. Non abbiamo più bisogno di spiegare a nessuno che cosa stiamo facendo a Vignale, c'è solamente il nostro logo e tutti quanti conoscono o mai in questo territorio la nostra attività perché nel frattempo siamo entrati in un contatto stabile, costante con il territorio che ci circonda anche perché abbiamo cambiato completamente il nostro modo di pensare da un gruppo di ricerca che si occupa della propria ricerca e poi semmai la racconta ad altri, siamo entrati in una logica in cui la nostra ricerca è in larga misura dettata dalle esigenze che la comunità ci rappresenta. Una delle grandi esigenze in questo momento che ci viene rappresentate è un'esigenza di identità. Vignale ricade territorialmente nel quartiere di Rio Toto, un quartiere molto lontano dal centro urbano di Piombino, è un quartiere che aveva una debole identità storica perché è un quartiere recente. All'interno di questo quartiere, che è un quartiere ripeto rurale, piove, all'interno di questo quartiere il nostro scavo è diventato un importante elemento identitario. Questo è raccontato in qualche maniera, in questa maglietta. La maglietta successiva è una maglietta che fa riferimento a uno dei tanti sottoprogetti, si chiama nanoscavatori e fa riferimento a uno dei tanti progetti che abbiamo portato avanti in questi anni. Il nostro lavoro di archeologia pubblica passa essenzialmente in primo luogo attraverso il rapporto con le scuole, il rapporto con le scuole del territorio, soprattutto nelle scuole elementari, nei principi dell'istruzione qui a Piombino, voi in questo momento vedete il cantiere alle mie spalle vuoto, ci siamo solamente noi che facciamo il nostro lavoro di archeologi, ma per gran parte dei giorni in cui noi siamo aperti il nostro cantiere è frequentatissimo da scuole di diverso genere. All'interno di questo rapporto con le scuole ci sono tanti sottoprogetti diversi, uno di questi sottoprogetti nanoscavatori è un sottoprogetto che abbiamo portato avanti insieme a una scuola non di territorio ma del nostro territorio di appartenenza a Siena, il liceo artistico Duccio Insegna di Siena, di cui i ragazzi hanno fatto degli staci, dei lavori insieme a noi. Cambia ancora la maglietta e la maglietta è la maglietta versione 2014 perché nel frattempo è successo qualche cosa, è cambiato il luogo come vedete perché nel frattempo abbiamo scoperto un clamoroso mosaico dall'antico di cui molti avranno sentito parlare, un pezzo del mosaico è finito sulla nostra maglietta, è scomparso il povero antilogo, è rimasto in forma di logo solamente il mosaico e però si è chiarito che cosa stiamo facendo. Uomini e cose vignate diventano un progetto di archeologia pubblica, condivisa e sostenibile, un progetto che progressivamente è cresciuto, un progetto che si è stabilizzato, siamo qui da 12 anni ormai, è un progetto che ha fatto della condivisione, della compartecipazione con il territorio, la sua chiave di volta, è un progetto che è totalmente basato sul crowdfunding e sul crowdsourcing, è un progetto in cui le risorse non vengono né dall'Università di Siena né dal Ministero dei Beni Culturali ma vengono essenzialmente dal territorio in forma di sostegno diretto da parte delle aziende del sistema economico del territorio e in forma di crowdsourcing attraverso la partecipazione diretta della comunità locale attraverso forme diverse di partecipazione nelle attività per esempio di gestione dell'area archeologica, di manutenzione invernale archeologica, di sorveglianza quando noi non ci siamo, tutta una serie di progetti che vanno in questa direzione. Sono arrivato all'ultima maglietta che è la maglietta che guarda al futuro, la maglietta che guarda al futuro perché è l'ultima maglietta, versione 2016, abbiamo anche un'altra verde che mi dicono i miei collaboratori che è molto più elegante di questa ma questa mi piace di più. È un progetto ormai cresciuto perché sta andando in due direzioni importanti, la prima direzione importante, forse le direzioni importanti sono tre in realtà, la prima direzione importante è un progetto ormai molto noto a livello nazionale e internazionale sul piano scientifico perché in questi 12 anni abbiamo scavato belle cose, non solo il grande mosaico d'Ardo Antico ma anche la stazione di posta, la villa che ci sta, che sta dietro le mie spalle che stiamo scavando proprio in questi giorni. È un progetto noto a livello nazionale e internazionale proprio sulla parte che riguarda l'archeologia pubblica condivisa, è un progetto che è diventato grande. È un progetto che si sta anche strutturando e che sta contribuendo a strutturare l'archeologia pubblica in Italia, di questo siamo veramente un po' secondo me giustamente orgogliosi. Dietro alla videocamera che mi sta riprendendo c'è il primo dottorando di archeologia pubblica in Italia che vuol dire una cosa importante, vuol dire spostare l'idea di archeologia pubblica dalla prassi operativa alla teorizzazione, a studiare il fenomeno archeologia pubblica dal punto di vista teorico e dal punto di vista della sua gestione metodologica. Non a caso il lavoro di ricerca di Francesco Rivanti è un lavoro basato sulla valutazione delle esperienze archeologiche pubblica. Crediamo molto che queste esperienze, dopo questa fase così eroica, debbano sopportare o passare una fase di valutazione. Il secondo elemento che mi fa piacere questa maglietta è perché è un elemento di prospettiva. Proprio in questi giorni, direi ieri, è stato pubblicato ufficialmente le decisioni del Ministero dell'Università della Ricerca relativamente ai progetti Brin. Uno dei progetti finanziati in abito archeologico, diretto e coordinato da Giuliano Volpe dell'Università di Foggia, è proprio intitolato L'archeologia e il suo pubblico e l'Università di Siena e anche noi del progetto Uomini e Cosa Vignale siamo parte integrante di questo progetto. I prossimi tre anni saranno tre anni, pensiamo, di svolto in cui l'archeologia pubblica in Italia diventerà da pratica operativa, diventerà elaborazione teorica e riflessione metodologica. Penso che abbiamo dato un contributo importante in questa dimensione.